ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'impero delle tenebre finalmente posso fare l'unboxing dell'entry grade dedicato all'rx 78 2 gundam ovvero il classico gundam della serie originale che dopo lunghe traversie mi è arrivato e posso finalmente diciamo costruire infatti questo è uno dei degli entry grade più venduti della linea naturalmente si tratta di un must nonostante non sia uno dei primi usciti come avevo fatto appunto le già le recensioni anche la costruzione dei super saian god super saian di goku e vegeta e anche doraemon e altri personaggi questo è comunque uno di quelli che ha dato il sold out subito infatti la versione con la busta che si trovava all'inizio in giappone adesso è stata sostituita da questa versione in scatola ed è appunto un vero must anche perché gli spru sono separati a seconda delle parti che si vanno a costruire sono ben organizzati sono touch gate che si staccano con un tocco quindi non richiedono neanche attrezzi o cose particolari al massimo un cutter o una lima per rimuovere qualche cosa che può rimanere qualche piccolo nab qualche sporgenza ma per il resto poi la costruzione è molto semplice ha dei dettagli notevoli tra cui anche lo snodo per i piedi e per il torace che a differenza di quelli hg permette una posabilità diversa eppure poi la grandezza nel modellino in sé è quasi uguale infatti la scala resta praticamente sempre la stessa è un 144 però con una semplicità di costruzione davvero abnorme per così dire qua possiamo vedere appunto le parti con il torace vedete tutto è separato ci sono i molding con appunto il colore i pezzi adesso vediamo è un po duretto però nel senso si stacca senza problemi non rimangono grossi nabba vista basta appunto limarli un po e si si ottiene il pezzo finito in questo caso ho preso appunto l'unico pezzo che andrebbe un po rifinito per le prese d'aria diciamo il colletto del gundam ma il resto diciamo che è fatto e finito è un model kit semplicissimo da realizzare con un livello di dettaglio davvero incredibile anche guarda diciamo i piedi con i dettagli dei reattori con appunto dei pezzi anche l'arma ha i vari diciamo le linee di giunzione dei pezzi ha un dettaglio che non mi aspettavo da un modellino che costa una decina di euro ed è appunto un entry grade per far avvicinare i ragazzi giovani o meglio gli inesperti perché poi secondo me il modellismo ha per tutti quindi non c'è limite di età di sesso razzo religione proprio per il fatto che è semplice da realizzare divertente e questo kit per gli amanti anche del gundam in sé è un must per questo è stato difficile poi anche recuperarlo perché tutti lo volevano la qualità dei pezzi è davvero notevole è anni luce superiore a quella anche dei vecchi hg ha un molding estremamente dettagliato per essere così economico e con pochissime rifiniture giusto un marker nero per far risaltare qualche linea oscurire i dettagli tipo delle giunzioni si ottiene un modellino straordinario il libretto di istruzioni qua è molto semplice è scritto anche parzialmente in inglese quindi lo possono davvero realizzare tutti come vedete viene spiegato che si staccano e si fanno senza problemi e qua vediamo già la costruzione del torace è davvero diversa stratificata e permette una mobilità incredibile per quella che è alla fin fine un misto tra model kit e action figure perché comunque ha una posabilità decisamente alta validissima e si costruisce in facilità senza il bisogno di attrezzi di rifiniture particolari e questo lo rende appunto a mio avviso un must poi il disegno del classico gundam quello vecchio perché infatti il design è molto liscio molto per così dire neutro apposta perché va ad essere il rifacimento del gundam classico quello più puro non quello uber dettagliato meccanico degli ultimi kit e poi come diceva appunto se lo pannellate anche di poco già la testa migliora tantissimo come si vede nella foto perciò se volete comunque costruire un gundam un gumpla semplice divertente questa adesso è la scelta migliore non richiede attrezzi particolari ha un livello di dettaglio notevole e soprattutto anche una posabilità davvero ottima ha una semplicità di costruzione enorme e se poi volete questo in realtà è abbastanza finto se volete comunque con un minimo non di pittura ma di rifinitura dei dettagli si ottiene un pezzo incredibile perciò io ve lo consiglio davvero tanto se volete poi vedere come come la realizzazione come viene una volta completato seguite il blog imperiodeletenebre.blogspot.com così da vedere l'unboxing e la recensione di questo piccolo gioiello che da grande fan di gundam e dei gumpla in sé è un'aggiunta alla mia collezione davvero notevole è davvero un pezzo fantastico perciò quindi ve lo consiglio e io adesso vi lascio e vi aspetto al prossimo video grazie 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 grazie